il merito è di chi si sta godendo il momento lo so che primo quante volte ho provato immaginare una vita vissuta senza averti al mio fianco non sentir la tua voce non vedere i tuoi occhi e di notte guardare mentre culli i tuoi sogni tra le sti sappia che scivola tra le dita io lotterò per noi anche contro il destino da mille sentirò battere il tuo cuo quello sarà il momento che io ti cercherò quello sarà il momento che ho sognato per noi quante volte ho provato immaginare quanto possa pesare ogni attimo perso non vedere il tuo viso dentro ogni tramonto e di notte sentire quell'amore profondo quell'amore profondo quello sarà il momento che io ti cercherò quello sarà il momento che ho sognato per noi che ho sognato per noi gravi le sentirò a te il tuo cuor quello sarà il tuo cuor che io ti cercherò quello sarà il momento che ho sognato per noi quello sarà il momento che ho sognato per noi ed eccoci qua cari amici buongiorno vi sono mancato eh però c'era tanta bella musica dai vi ho tenuto compagnia con tanta bella musica ieri e sono tornato oggi pensavate facessi il ponte ma invece sono qui per voi per le vostre dediche richieste per i vostri appuntamenti danzanti anche per i nostri perché domani sera vi aspettiamo in quei dell'Avis Cristo ma a tempo debito arriveranno tutte le le varie le varie slide degli appuntamenti danzanti mamma mia come sono etichettato questa mattina sembra che debba fare la comunione o la cresima e guardate un po' mi è venuta così va bene dai allora intanto del buongiorno il benvenuto sul canale 16 di TV Parma grazie per essere sempre con noi perché lo so che siete veramente in tanti me lo dite me lo dite quando ci vedete nelle serate me lo dite anche tramite messaggi insomma grazie grazie di cuore e benvenuti anche sullo streaming sull'app e anche su facebook dove potete mandare i vostri messaggi devo recuperare una canzone da mercoledì l'avevo promesso spero che sia all'ascolto all'ascolto proprio in questo momento Angela e Angelo da Carpi perché avevano richiesto di Moreno con Ficconi alla fermata e in questo caso secondo me sono gli extra liscio perché ho visto anche Mariani eccolo qua che arriva tutto per voi forse voglio rotolare senza freni e mani in tasca fino qua voglio rimanere a galla voglio masticare la gomma dentro al sacco mille fiori di città e ritrovare nel silenzio che interrompe il cielo e riconora i tuoni e quel pensiero dal sapore del cioccolato mi riporterà fin qua io vorrei rubarti l'anima ma la tua anima ancora questo non lo sa e accarezzare l'arcobaleno fino all'alba e immaginare un'altra età una bollata a scoppiare la mia barba da bruciare la fermata più vicina è questa qua il singhiozzo non dà pace piano piano alzo la voce ecco il treno è già partito se ne va e quella notte misteriosa si cammina per le scale guarda fuori fuori dal tempo circondato dalla ebbia il mio vagone se ne va io vorrei rubarti l'anima ma la tua anima ancora questo non lo sa e accarezzare l'arcobaleno fino all'alba e immaginare un'altra età io vorrei toccarti l'anima e dire al vento di portarti via di qua nel lungo mare di cemento dentro un bar che non è tempo e mai ne avrà e quella notte misteriosa si cammina per le scale guarda fuori e quel pensiero dal sapore del cioccolato mi rimporterà fin qua io vorrei rubarti l'anima ma la tua anima ancora questo non lo sa e accarezzare l'arcobaleno fino all'alba e immaginare un'altra età io vorrei toccarti l'anima e dire al vento di portarti via di qua nel lungo mare di cemento dentro un bar che non è tempo e mai ne avrà nel lungo mare di cemento dentro un bar che non è tempo e mai ne avrà che non è tempo E voilà, grande performance, Moreno con gli extra liscio, se non vado errato addirittura andiamo indietro nel tempo, c'era Anna Maria Allegretti, Moreno che è sempre impegnatissimo, ma recentemente l'avete visto su Rai 2 con la trasmissione, a dirigere l'orchestra nella trasmissione Paradise e ultimamente l'ho visto anche su Facebook, pochi giorni fa era in Quedi Capri per un impegno con la Nazionale Cantanti, grande Moreno e complimenti per tutto quello che stai facendo, magari prossimamente lo inviteremo qui al Nima Show Live. Andiamo a salutare intanto gli amici che sono collegati su Facebook, ragazzi portate pazienza, ma sono un po' bloccato, ma non perché ho il torcicollo, è che non sono più abituato alla camicia, e come potete vedere sono un po' rigido, ma se apro il bottone poi dopo divento un maranza, non va bene perché si vede tutto il collo e non mi piace, allora devo stare così, va bene, portate pazienza. Comunque ne approfitto per salutare anche l'amica Ines di Bagnolo che ha telefonato, è sempre giù di morale, il lavoro cara Ines ti logora, basta, basta che si arrangino, ti devi riposare e ogni giorno collegarti alle ore 11 su TV Parma per guardare il tuo Nicola che ti fa ascoltare tanta bella musica, tra poco arriva una bella canzone anche per te. Dai, intanto salutiamo il mio fratellone, buongiorno fratellone, ieri mi sei mancato tantissimo, però non vedo l'ora che arrivi domani sera per vedere, ti vedi che recuperiamo alla grande. Buongiorno Nicola da Danilo e buon fine settimana, se gentilmente mi faresti ascoltare L'orso che balla di Roberto Polisano, ma dove le fai trovare queste canzoni tu? Boh, non l'hai sentito, adesso ci guarderò, anzi no, ci ho già guardato, sono sincero, però la canzone c'è, te la farò ascoltare, sono molto curioso di ascoltarla anch'io. Ciao Nicola, oh Gianni, già collegato, buona giornata a te e a tutti gli amici, oggi sono presente dall'inizio e ascolto le tue canzoni che proponi, mi fai sentire non c'è più niente, buon weekend, buon weekend, però puoi anche venirmi a trovare domani sera all'Avis Cristo, se vuoi la canzone, se no niente, no scherzo, non sono così meschino, ci mancherebbe. Buon venerdì Nicola e a tutti voi, bellissimo brano di Franco Bagutti, grazie Maria Angela Merida, Alessandria e ritorniamo a Macerata, buongiorno, le fa caldo e fa freddo, e che come sei elegante Nicola, non ho capito la prima frase, perla, se fa caldo, se fa freddo, e grazie per l'elegante. Nicola ti vedo, ti ascolto, ti sento, sembrava il Mago Telma, con grande piacere e con la gioia nel cuore, grazie. Nicola, se possibile, Davide Montali con il brano Ti sento, oppure di Michele, grazie. Ma se non vado errato, cara Maria Angela, non c'è un videoclip di Davide Montali con Ti sento, l'ha registrata soltanto per il mercato audio, però adesso ci guarderò, dai. Intanto vado ad accontentare Danilo con questo orso che balla, che sono proprio curioso, per andarlo ad ascoltare. Roberto Polisano e il DJ Berta, eccolo qua. Orso che balla, la musica a balla. Voglio una vita speciale, ma fatta di sole, senza mai lavorare, sale, tequila, banana e limone, bere e ballare, fino a che sorge il sole. Niente di particolare, solo lasciarmi andare nell'azzurro del mare, senza più il traffico delle città, senza una meta a pagare qua e là. Oh 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 E voglio un oro che balla, di plastica per stare a galla, la musica sempre a palla, per te che sei sempre più bella. La luna accesa sul mondo per vedere quanto è rotondo Ballando sotto alle stelle che brillano sulla tua pelle E voglio un osso che balla La musica sembra balla La luna accesa sul mondo Ballando sotto alle stelle Orso che balla, la musica appalla La luna sempre accesa, sale, tequila Orso che balla, la musica appalla La luna sempre accesa, sale, tequila Oh 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 accesa sul mondo, per vedere quanto è rotondo, ballando sotto alle stelle, che brillano sulla tua pelle. E voglio un osso che balla, la musica sembra balla, la musica sembra balla. Orso che balla, la musica balla. Più natural, più natural. Allora proseguiamo e vedi, botta e risposta, Gianni subito sì, prova a non farmela ascoltare, poi vedi cosa succede. Per fortuna, caro Gianni, che c'è la tua Anna, che mi vuole bene, e dice Ciao Nicola, ci siamo, ci siamo già prenotato, a domani sera, grande, chissà che bontà arriverà, ma non portare da mangiare, mi raccomando, basta la presenza, vi vogliamo bene, anche senza le torte, perché poi se no si continua a crescere. Un momento, maniche corte, poi subito dopo più o meno, hai ragione, hai ragione, è così, cara perla. Però si sistemerà prima o poi, e non ti preoccupare che si sistemerà, e poi dopo non c'è più niente, come ho promesso al mio amico Gianni. Ma, visto che ci siamo, ecco qua, ecco qua, una telefonata prima in diretta. Pronto, buongiorno, siamo in diretta, con chi parlo? Buongiorno Nicola, sono Aldo Metalli di Sant'Antonio di Ravenna. Ciao carissimo, è quello che Omar ha detto, ti amassi tutti, vero? Ti amassi tutti, ti amassi tutti. Adesso mi ricordo, ciao Omar. Ho capito poi la frase in dialetto romagnolo, cosa vuol dire? Eh, l'ho capito, li fai fuori tutti, è normale. Ecco, li amassi tutti, ma hai ragione io. Dimmi caro, oggi festeggi qualcosa di particolare. Io, ieri ho fatto il 25 aprile, gli anni, te lo devo dire? Quanti anni? 56 più 4 di fidanzamento. Sono 60, 60, mamma mia, dai. Allora, tanti auguri da parte mia Aldo, a te e tua moglie. Grazie, grazie mille. La canzone cosa vuoi ascoltare? Se te hai una canzone della Francesca Mazzucato, me la piacerebbe forte. C'è, 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 tranquillo. Oh, grazie mille. Allora, guarda, vado con la mia canzone per l'amico Gianni e poi dopo, quando ritorniamo dalla pubblicità, arriva la tua dedica, ok? Vabbè, ma io sono qui che guardo la tua dedica. Allora, fino alla fine, porta pazienza. Grazie, grazie. Ciao caro, auguroni ancora. Ciao, 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 ciao. Grazie mille. E vedete ragazzi, 25 aprile, festa di liberazione, però c'è chi anche si è andato a incastrare, no? No, sposandosi, era una battuta ovviamente, ci mancherebbe. Andiamo a ricordarvi l'appuntamento, cari amici, dell'Avis Cristo. Eccolo qua che arriva la slide. Sabato 27 aprile, Avis Cristo, Via Benedetta, Parma. Vi aspettiamo numerosi con la mia orchestra. Saremo in formazione trio, io, Monica e Mario, con la sua fisarmonica. Prenotazioni allo 0521 78 28 46 338 88 11 5 6 7. Mi raccomando, numerosi perché dovremo fare una bella serata. Poi so già di tanti altri amici che verranno a trovarci, tante scuole che verranno a divertirsi insieme a noi e questo mi fa solo che piacere. Dunque, la canzone, eccola qua. Non c'è più niente, Gianni, stavolta perché ti ha salvato l'Anna. Va bene? Va bene così. Andiamo. Saranno tutti perché che porto qui dentro di me, sarà che non si può mentire al nostro cuore, credevo a tutto di noi, a ciò che non sarà mai, credevo ai baci di chi più non ama. Vedevo i tuoi occhi ormai spenti, distacchi nei nostri momenti, istanti svaniti nel tempo dietro di noi. E' Dio che ci credevo, e' Dio che già sognavo, Dio che ti vedevo accanto a me. Non c'è più quel calore, non c'è più il nostro amore, non c'è più niente oramai dentro di te. Vorrei cancellare ogni ricordo di te, ma bruciano troppo i tuoi segni dentro di me. tutto è finito oramai, più niente rimane di noi, rimane soltanto quest'uomo che soffre d'amore. Vedevo i tuoi occhi ormai spenti, distacchi nei nostri momenti, istanti svaniti nel tempo dietro di noi. E' Dio che ci credevo, e' Dio che già sognavo, Dio che ti vedevo accanto a me. non c'è più quel calore, non c'è più il nostro amore, non c'è più niente oramai dentro di te. Vorrei cancellare ogni ricordo di te, ma bruciano troppo i tuoi segni dentro di me. E' Dio che ci credevo, e' Dio che già sognavo, non c'è più quel calore, non c'è più il nostro amore. Vorrei cancellare ogni ricordo di te, ma bruciano troppo i tuoi segni dentro di me. Ma bruciano troppo i tuoi segni dentro di me. Nel letto vuoto ancora quella scia, del mio profumo lì nel posto suo. chissà domani se richiamerà, col cuore a pezzi mi raggiungerà. In questa vita inseguo l'amore, per molti invece è un terribile errore. Quello che conta è di far stare bene, chi ha solo voglia di dimenticare. Sono quel che sono una cometa nella notte nera. Sono quel che sono un desiderio che poi si avvera. Ti riscaldo il cuore, versami da bere, se ti lascio andare poi vedrai. Ho la valigia pronta quando vuoi, e ti raggiungo ovunque dove sei. Mi prendo tutto il bene che mi dai, i giorni neri lasciali per lei. Credi davvero mi manchi l'onore, c'è chi l'ha persa anche senza un errore. Ci sono poi tanti modi di amare, e non ti chiederò mai di capire. Sono quel che sono una cometa nella notte nera. Sono quel che sono un desiderio che poi si avvera. Ti riscaldo il cuore, versami da bere, se ti lascio andare poi vedrai. Sono quel che sono un'avventura, tutto in una sera. Sono quel che sono e mi diverto. Ma con sentimento non mi giudicare. Sono quel che sono un desiderio che poi ti lascio andare poi vedrai. Sono quel che sono un desiderio che poi ti lascio andare poi vedrai. Sono quel che sono un desiderio che poi ti lascio andare poi vedrai. Se cerchi un po' d'amore scegli me. La, 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 la... Buonasera signori, buonasera a tutti quanti. Noi siamo contentissimi a vedervi così in tanti. Avete fatto bene a venire a ballare. Ci mette il buon umore. Cominciamo a suonare. La pista è quasi piena questo divertimento. Fa bene la salute fare del movimento. E se qualcuno vuole può venire qui sotto. Cantiamo tutti insieme questo bel motivetto. La, 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 la. Ma che bella serata io mi sto divertendo. Il merito è di chi si sta godendo il momento. Lo so che prima o poi si spegneranno le luci. Però io vedo che le facce sono felici. Lo so che siete stanchi, lo sono pure io. Ci avete messo l'anima e ce l'ho messo anch'io. Ma prima di finire voi venite qui sotto. Cantiamo tutti insieme questo bel motivetto. La, 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 la. Grazie a tutti La 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 lalala 185 e la 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 la. Anche voi, forti amici, venite qui, dai. Terra, la prendi fra le mani sulle tuita Mi resterà il profumo della vita E non se ne andrà più via Fuoco che bruci quella terra e le foreste Ma un giorno sulle ceneri rimaste Un fiore rinascerà E l'acqua dissenderà coi petali e la vita Ritroverà la via d'uscita intanto Nieve suona come un grido forte Niente è più forte Di questo amore che io sento qui dentro Nell'anima Più forte Sempre più forte Più della terra, del fuoco, del mare, del cielo sarò Notte Proteggi nei silenti, nei pensieri E la paura che sentivo ieri Domani se ne andrà via E il sole risplenderà sui campi di cinestre E il vento che spalanca le finestre E il tuo cuore è come un grido forte Niente è più forte Di questo amore che io sento qui dentro E il tuo cuore dell'anima E il tuo cuore è come un grido forte E il tuo cuore è come un grido forte Francesca E vai L'orchestra Le mani al cielo Rotti le mani con il ritmo Anche te mamma **Ole spazzera** 1,2,3,4 bat Niente è più forte Di questo amore che io sento qui dentro nego Nell'anima Niente è più forte Sempre più forte Più della terra, del cuorlo, del mare, del cielo Sarò forte Forte Francesca! Francesca! Grazie! Forte per l'amico Aldo e consorte che hanno festeggiato 60 anni insieme Sì, perché 56 di matrimonio più 4 di fidanzamento sono 60 Ma gli auguri vanno anche a una persona che da un po' di tempo, da un mesetto a questa parte Ci tiene compagnia con le sue canzoni qui alla Niman Show Live Sto parlando di Umberto Bassoli perché domani compie gli anni Ma non essendo in diretta, insomma, facciamo gli auguri quest'oggi E allora vado a prendere una dedica che mi è arrivata Ne approfitto, ho aspettato un attimo Un attimo solo che arriva Eccola qua In occasione per il compleanno di Umberto Bassoli Per l'occasione tante persone che lo seguono gli hanno inviato Gli auguri Umberto ringrazia di cuore A voi, a noi e a tutto il pubblico Compassione dedica il brano Gloria E noi ce l'andiamo ad ascoltare Eccolo qua che arriva Ma non prima di ricordarvi qualche appuntamento danzante E allora vi ricordo Dagli amici dell'Avis di Noceto Chi ci sarà a tenere compagnia con la loro musica Saranno Antonio e Silvia Con il fisarmonicista Nilo Sabato 27 aprile Via Gandhiolo 5 Noceto Parma Info prenota Tra l'altro Umberto arriverà proprio in quei di giugno All'esterno il 15 di giugno con la sua orchestra E poi vi ricordo anche Colorno Cralfarnese Il ballo del sabato sera Sabato 27 aprile Vi terrà compagnia l'orchestra di Luca Canali Via Roma 28 Colorno Parma Info prenota Allo 0521 57 48 46 Allora siete pronti Ve la ricordate Quella famosissima canzone di Umberto Tozzi Eh sì È un evergreen Gloria Manchi tu nell'aria Umberto Bassoli Dunque questa sarà Gloria Ti scateniamo Manchi tu nell'aria Manchi tu nell'aria Manchi ad una mano Che lavora piano Manchi a questa bocca Che giro più non tocca È sempre questa storia È sempre questa storia Che lei la chiamò Gloria Gloria sui tuoi fianchi La mattina nasce il sole E in fronte ad una mano E in fronte adesso è amore T'aspetto Gloria T'aspetto Gloria 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 Chiesa di campagna Gloria Acqua nel deserto Gloria Lascia aperto il cuore La ria C'è appassenza Fa rumore Dal lavoro Dal tonetto Dai gradini di un'artare T'aspetto Gloria Gloria Perché accende il giorno E invece di dormire Con la memoria torna Antuffo nei papaveri In una terra libera Per chi respira nebbia Per chi respira rabbia Per me che senza Gloria Convenuta sul divano Faccio stelle di cartone Pensando a Gloria Gloria Manchi tu nell'aria Manchi come il sale Manchi più del sole Sciogli questa neve Che soffoca il mio petto Oh 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 T'aspetto Gloria 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 Chiesa di campagna Gloria Acqua nel deserto Gloria Lascia aperto il cuore Gloria Scappa senza far rumore Dal lavoro Dal tuo letto Dai gradini di un'artare T'aspetto Gloria Ehi Umberto Bassoli E tanti auguri ancora, so che di solito farli prima porta a mare, speriamo di no, però domani non siamo in diretta, ne abbiamo approfittato, tanti auguri ancora caro Umberto se sei all'ascolto, partiamo, anzi continuiamo con gli appuntamenti danzanti, mi sposto in quei di Medesano, cari amici, per ricordarvi questa domenica pomeriggio, domenica 28 aprile, a partire dalle ore 15.30 vi terrà in compagnia Battagini e Conti, Centro sociale Le Tre Torri, via Salvatad 6 Medesano, info prenota 340 60 17 816, noi ci vedremo il 19 di maggio, come me l'ha ricordato l'amica Chiara che ha telefonato per dedicare a Mariolina di Medesano, che mi ha detto che mi segue sempre, ma sarà vero? O cambia canale la Mariolina, non lo so, se guarda un po' la concorrenza o un po' gira su Nima Show Live, dai lo sapete che mi piace scherzare, allora vado, vado a dedicare a Mariolina da parte di Chiara, e sempre se lo trovo, l'ultimo, ma proprio l'ultimo, quello che è rimasto dei Moicani suonato dal nostro Maio, eccolo qua che arriva, per te Mariolina! Grazie a tutti! 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 su Facebook e vado a salutare ancora di nuovo Danilo che mi dice ti piace sta canzone, forse era riferito all'orso che balla, bellina dai, come faccio a non portare la torta? Mi dice Anna, se mi vai in depressione non riesci più a cantare, hai ragione, perché quando ero in dieta, si diventa nervosi, però bisogna stare attenti anche per la salute, guarda che non ho bisogno di protezione, cari dai Gianni che mi attacca, al massimo mi proteggo da solo, sono capace di difendermi, dai su che facciamo la pace domani sera all'Avis Cristo, buongiorno in ritardo Nicola, buon venerdì dalla nostra Dora, sei tornato tu ed è tornato il sole, che bella frase questa, vedi speriamo che duri, certo ci resterà per un po', anche se la temperatura ancora non è di quelle ottimali. Nicola, vorrei sentire il nostro Luca, eccolo qua, vorrei sentire, cioè non è che vorrei sentire Luca, vorrei sentire una delle tue bellissime canzoni da dedicare a due mie amiche, Deborah e Lorenza, conosciute con i soci del Parma, PPC, Luca, il nostro Luca è socio anche del Parma Caccio ragazzi, e se vai in A, quanti guadagni caro Luca, quanti guadagni, scherzo. Ma guarda chi c'è, Loredana Lanzi, buongiorno, guarda che mi stai prendendo in giro con questo ciao caro, perché so che a te non piace essere chiamata cara, brava dice Francesca per me merita, ciao carissima, e se capitate a Bologna andate a trovare la mia amica Loredana con Bologna Arredamenti, ciao cara, ciao ciao, l'ho detto anch'io, visto che l'hai fatto anche tu. Va bene, dai, andiamo avanti e ricordiamo altri appuntamenti danzanti, dove sono rimasto? Sono rimasto qui, stiamo su Parma, vi ho parlato dell'Avis Cristo con il nostro appuntamento e andiamo all'Andrea Hall, sabato 27 aprile, Ringo Stori vi terrà compagnia con le sue canzoni, Parma via Bobbio 7 barra, info prenota Silvana al 348 12 06 252, guardate che sguardo da ipnosi che ha il nostro Ringo. Ciao caro, buona serata a te e al tuo band e andiamo anche al Tulipano di Parma, sabato 27 aprile, Fabio Cozzani, domenica 28 aprile al pomeriggio, Anna e Massimo Antelmi. Centro sociale Il Tulipano, via Bonomi 23 a Parma, info prenota al 345 98 79 932. C'è un altro anniversario di matrimonio da festeggiare, oggi poi ce ne saranno anche degli altri perché la mia amica Licia li festeggia il primo di maggio, non sarò ancora in diretta come non sono stato ieri, ci sarà tanta bella musica, ma avremo modo di festeggiarti martedì insieme a Monica. Dov'è, dov'è, dov'è? Qua, ecco qua, Paola di Bagnacavallo, 54 anni di matrimonio quest'oggi con il suo marito Giovanni che ha chiesto una nostra canzone. La canzone te la dedico cara Paola, grazie perché è cantata da me e da Monica, ma la voglio dedicare anche alla mia amica Ines di Bagnolo. Un bacione, dedicatissima anche a te cara Ines. Grazie perché mi eri vicina ancora prima di essere mia e perché vuoi. Un uomo amico, non uno scudo vicino a te. Grazie che vai per la tua strada piena di sassi come la mia. Grazie perché anche in lontano tendo la mano e trovo la tua. Io come te vivo confusa, favore rosa, non chiedo più. Grazie perché mi hai fatto sentire che posso anche io volare senza di te. Io mi riposo dentro i tuoi occhi, io coi tuoi occhi vedo di più. Grazie perché anche in lontano tendo la mano e trovo la tua. Con te ogni volta è la prima volta. Con te ogni volta è la prima volta. Non ho paura vicino a te. Grazie perché non siamo soli. Non siamo soli. Grazie perché vivere ancora non fa paura. solo con te. Grazie perché anche lontano tendo la mano e trovo la tua. tendo la mano e tu ci sei. Grazie. 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 Grazie a tutti. Come dico io. A proposito di Graziella, cari amici, c'è un messaggio che arriva da Anna. Ciao Nicola, mi puoi fare gli auguri a mia zia Graziella. Tantissimi auguri dai nipoti Anna e Eleonora e Davide e la mamma della Marina. Me lo ricordo, l'abbiamo festeggiata l'anno scorso. No, eravamo a Castione alla Bella Ripa, abbiamo fatto una bellissima festa di compleanno e ha telefonato anche la sorella di Graziella Franca che con i figli e i nipoti fanno tanti auguri alla sorella Graziella Ghilani. Tanti auguri, tanti auguri. Andiamo con questa musica dai che arriva. Eccolo qua, l'artista di strada richiesta da Antonia di Macerata per il suo germano. A pochi passi da qua c'è una fontana Fiotta ogni giorno da là una vecchia canzone E tutta intorno la gente silenziosa sta Ad ammirare un uomo e quello che fa Gioco di ombre leggere che sa di mistero Lingue di fuoco e petrolio riempiono il cielo Tra lunghi applausi e sorrisi lui ringrazierà Gli occhi incantati di un bimbo che sognano già Artista di strada Artista di strada raccontami della tua vita Di come cammini sui vetri con semplicità E come riesci ad entrare dentro ogni cuore E non cadere mai Dimmi come si fa La tua eleganza La tua eleganza non è una giacca d'argento A un sangue nobile che ti scorre dentro E un riflettore e un sipario nella tua realtà Ma un marciapiede e un lampione è la gente che va Artista di strada raccontami della tua vita Di come cammini sui vetri con semplicità E come riesci ad entrare dentro ogni cuore E non cadere mai Dimmi come si fa Artista di strada raccontami della tua vita Di come cammini sui vetri con semplicità Di come cammini sui vetri con semplicità Ad Сегодня E come posizio ad entrare dentro ogni cuore E non cadere mai Dimmi come si fa A non cadere mai, dimmi come si fa, a pochi passi da qua. La 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 Buonasera signori, buonasera a tutti quanti Noi siamo contentissimi a vedervi così in tanti Avete fatto bene a venire a ballare Ci mette buon umore, cominciamo a suonare La pista è quasi piena, questo è divertimento Fa bene la salute, pare del movimento E se qualcuno vuole può venire qui sotto Cantiamo tutti insieme questo bel motivetto La, la 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 Quel motivetto che fa la 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 Ma che bella serata, io mi sto divertendo Il merito è di chi si sta godendo il momento Lo so che prima o poi si spegneranno le luci Però io vedo che le facce sono felici Lo so che siete stanchi, lo sono pure io Ci avete messo l'anima e ce l'ho messo anch'io Ma prima di finire voi venite qui sotto Cantiamo tutti insieme questo bel motivetto La, la 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 La, la 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 La, la 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 Quel motivetto che fa la La, la 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 La, la 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 La, la 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 La, la 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 ora, mamma mia, ma dopo ci ritroveremo lunedì sempre con tanta bella musica, ma anche un ospite d'eccezione perché ci sarà in collegamento a partire dalle ore 11.30 l'orchestra Vincenzi, Gian Piero Vincenzi, perché dovremo parlare dell'appuntamento di sabato 4 maggio a Colorno con la sua grande orchestra. Andiamo avanti perché vi devo parlare di Borgotaro, concludiamo gli appuntamenti della provincia di Parma, poi passeremo a quelli di Reggio Emilia, ma intanto vi ricordo questo appuntamento di martedì 30 aprile con il mitico Pietro Galassi e Omar Codazzi. Il Voglio Volare Tour arriva proprio alla baita di Borgotaro, località Grifola 66 e in più si festeggerà il compleanno della baita. Happy Birthday, torta gratis per tutti. Ci sarà l'opportunità di poter cenare, compreso il ballo a soli 30 euro oppure solo ballo euro 15 con drink. Mi raccomando e rimaniamo lì a Borgotaro perché ha telefonato l'amico Renato da un po' di tempo che non ci sentivamo, caro Renato. Un saluto a te e anche alla mamma Norina e dedichiamo questa canzone cantata da Matteo Bensi e Marianna Lanteri. Vieni vicina, vieni vicina, ho su Via Vicina. Vieni vicina, le disse un signor, mentre passava davanti a un caffè. se vuoi dei dolci ne offro di cuore. Vieni vicina, qui accanto a me. Lei si sedette accanto a lui con gran piacere. E gli mangiò tutte le paste al pasticcere. Quattro vermute e una bottiglia di champagne. E fu così che non si misero a cantare. Pronti? Vieni vicina. Vieni vicina. Marianna, Dora fammi un video che poi me lo guardo E un dante a pranzo rimase con lui In un ristorante di lusso si sa E fuori un'auto più bella che mai Fatta si sera li portò a ballar Ballò con lui anche il fostro e il balzerino Ballò con lui si divertì fino al mattino Ed ubriati di vermouth e di champagne Un'altra volta ancora si misero a cantare Voi come l'è bello il cielo Voi come l'è bello il mar Bello è l'amore Voi come l'è bello il cielo Voi come l'è bello il mar Bello è l'amore e chi lo sa far Bello è l'amore e chi lo sa far Così Vieni piccina Vieni piccina Vieni piccina La parte più bella della canzone Dove dice che gli mangia le paste al pasticcere No scherzo ci mancherebbe una bella canzone E tra l'altro Dora Se sei all'ascolto mai eri presente Perché Matteo ti disse Fammi il video Dora Fammi il video Allora vado a salutare ancora una volta La mia amica Loredana Grazie Nicola Felice Per i tuoi inimitabili successi Un abbraccio Grazie cara Ma è troppo per me Un complimento del genere Che successi Io sono un umile servitore Dello spettacolo Un umile lavoratore Dello spettacolo E mi piace tenere compagnia Entrare nella casa della gente Con la mia trasmissione Rimani perché L'amica Alicia di Bologna Neanche a farla apposta Tu ti trovi a Bologna Ha richiesto una mia canzone Dal titolo La voce delle silenze Non so se ti ricordi Dove la cantai Tra poco arriva Prima però Vi ricordo che Al rondò di Reggio Emilia Troverete l'orchestra Di Roberto Morselli Sabato 27 aprile Via Rinaldi 45 Zona Cavazzoli Info prenota 353 4368 241 0522 30 81 32 E allora Vado ad accontentare La richiesta di Alicia E la voglio dedicare Anche all'amica Loredana Che mi sta guardando Da casa Eccola qua La voce del silenzio Indovina un po' Dal teatro Reggio Anno 2019 Guarda un po' Volevo stare un po' da solo Per pensare tu lo sai Ed ho sentito nel silenzio Una voce dentro me Una voce dentro me E tornano vive troppe cose Che credevo morte ormai Ai E chi ha tanto amato dal mare del silenzio Ritorna come un'ombra nei miei occhi E quello che mi manca dal mare del silenzio Mi manca assai molto di più Mi manca assai molto di più Ci sono cose in un silenzio Che non mi aspettavo mai Vorrei una voce Ed improvvisamente Ti accorgi che il silenzio Ti accorgi che il silenzio E gli occhi ancora di chi ti ha perduto Ed io ti sento amore Ti sento nel mio cuore Stai riprendendo il posto che Tu non avevi perso mai Che non avevi perso mai Che non avevi perso mai E quello che mi manca dal mare del silenzio Mi manca assai molto di più Ci sono cose in un silenzio Ci sono cose in un silenzio Che non mi aspettavo mai Vorrei una voce Ed improvvisamente Ti accorgi che il silenzio Ha il volto delle cose che hai perduto Ed io ti sento amore Ti sento nel mio cuore Stai riprendendo il posto che Tu non avevi perso mai Che non avevi perso mai Che non avevi perso mai Non avevi perso mai Che non avevi perso mai Che non avevi perso mai E non avevi perso mai papà e saluto anche la sorella Cristina tutta la famiglia Lanzi ecco intanto che ci siamo grazie ancora andiamo avanti c'è Dora che dice sì sì ero sotto il palco e stavo facendo il video eravamo a Olmo per la presentazione dell'orchestra e per la festa del grano che poi non ci fu che peccato una delle più grandi e sappiamo tutti come è andata a finire purtroppo dovuto al covid e a tante altre cose andiamo a ricordare l'appuntamento del Bismantova a Cartellani Reggio Emilia Via della Canalina 19-1 Info prenota al 347-9685-142-339-5994-097 Circolarci il Bismantova a Cartellani vi aspetta sabato 27 aprile con l'orchestra di Vincenzo Serra domenica 28 aprile al pomeriggio Marco Marinelli lunedì 29 aprile di sera DJ Dino Mania e avevo preparato questo brano da far ascoltare una bella chizomba dai che così ve la ballate arriva il mio amico Giacomo Zanna con Meraviglia eccolo qua un'uomo Giacomo Zanna Grazie a tutti 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 Guardo i tuoi occhi e riparte la vita vuota la spiancia che ieri era piena di te Grazie a tutti 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 Grazie a tutti